Quasi 16 milioni di euro per affrontare la crisi idrica e per sostenere il settore agricolo. 6 milioni invece per il rilancio dell'AST. Sono queste le misure principali previste nel disegno di legge e disposizioni finanziarie varie approvato dall'Aggiunta regionale e che adesso sarà trasmesso all'ARS. Per quanto riguarda l'emergenza siccità, il DDL prevede la costituzione di un fondo al Dipartimento regionale della protezione civile da 9 milioni di euro per gli investimenti immediati conseguenti alla dichiarazione di stato di crisi. Quasi 7 milioni di euro invece sono previsti per sostenere il settore agricolo. In particolare, 5 milioni serviranno per i contributi alle aziende di allevamento per l'acquisto di foraggio e per l'approvvigionamento idrico per gli animali. Altri 400 mila euro invece andranno a copertura dei costi degli esami di laboratorio e delle spese veterinarie sostenute dagli allevatori che praticano la transumanza di bovini all'interno del territorio regionale. Nel DDL spazio anche le misure per l'AS, l'azienda siciliana trasporti partecipata totalmente dalla regione, che sarà trasformata in società in house. Per dare attuazione alla sua ristrutturazione, sono stati stanziati per il 2024 circa 6 milioni e 500 mila euro, di cui 2 per l'aumento del capitale sociale e quasi 4 milioni per il ripiano di quota parte delle perdite complessive conseguite. Inoltre, per il 2025 e il 2026 sono previsti fino a un massimo di 5 milioni di euro all'anno da destinare ai investimenti. Infine, sono autorizzate spese per un totale di 335 mila euro che riguardano il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale, il funzionamento della Conferenza Speciale di Servizi per i Lavori Pubblici e della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici e il mantenimento e il funzionamento dell'organismo di ispezione di tipo B nell'ambito del settore delle costruzioni. La manovra si basa su economie di spesa rinvenute nelle pieghe del bilancio regionale per far fronte a situazioni non rinviabili in attesa della verifica dell'andamento delle entrate di giugno.